Sono contento di essere di nuovo insieme a voi perché con Virginia abbiamo un po' preparato anche questo discorso, queste poche slide su un tema che richiederebbe penso direi una giornata insieme per poterlo affrontare in modo adeguato. Però ci sono alcune cose che vedrete, che appresentano anche un po' delle trappole nelle quali bisogna cercare di non cadere e ci sono anche delle situazioni che possono anche essere un po' forvianti nei numeri perché purtroppo una delle conseguenze dell'inflazione è che i numeri monetari perdono valore, nel senso che perde valore la moneta e di conseguenza quello che la moneta esprime. E quindi questo ovviamente è una cosa da tenere presente perché è più facile e fa fatturato. Quindi basta solo questo per capire quali possono essere alcuni aspetti positivi dell'inflazione. Allora vediamo insieme di aggiungere alcune cose importanti a queste prime considerazioni che potrebbero anche farvi pensare in positivo, ma vi fanno pensare in positivo solo in un caso, in un caso molto preciso e questo è quello che dovrete capire nei prossimi mesi. Prima si parlava della normalità, la nuova normalità, arriverà la nuova normalità, siamo già nella nuova normalità, la nuova normalità sarà quella che stiamo vivendo in questi mesi, è una cosa piena di shock come ricordava prima Federico e comunque è una situazione dove le sorprese non mancheranno mai. Chi mi conosce sa che amavo già da tempo usare l'idea del cigno nero. Il cigno nero è un'espressione voluta da un matematico libanese che l'ha proposta come titolo di un suo libro e diceva una cosa molto bella, il cigno nero è l'altamente improbabile che diventa probabile. È una situazione che figurati, però in realtà c'era la probabilità che si verificasse, scusatemi, ma in Ucraina è dal 2014 che ci sono scaramucce, siamo nel 2022, quindi non possiamo dire che è una novità, possiamo dire che non gli abbiamo prestato attenzione e in questo purtroppo voi sapete, noi siamo fortemente influenzati dai media che ci dicono quello che vogliono, scusate se sono molto esplicito, ma bisogna trovarsi ogni tanto anche qualche fonte di informazione esterna, non ha detto lui, hanno detto alcuni media, non so se lui, non ho fatto nomi di testate, di testate giornalista, nessuno è perfetto, ma comunque guardate questa cosa qui dei media è una cosa micidiale, perché effettivamente a seconda dei momenti ci sottopongono una serie di problemi. L'inflazione sembra che non ci sia più, quante volte avete sentito parlare, adesso è ritornata di modo dopo le lezioni, ovviamente qualcuno la sta anche cavalcando, però era passata quasi di modo, non sembrava che non ci fosse più. Allora qual è il problema? Il problema in qualsiasi cambiamento di scenario esterno, di ambiente esterno, è capire se è un cambiamento congiunturale o strutturale, questo non è per fare il professore, ma il cambiamento congiunturale è un cambiamento che può tornare come prima, lo strutturale non torna più come prima, quindi il problema è quello di capire se questa inflazione che ormai caratterizza non solo la nostra economia, perché gli americani anche loro galoppano con un'inflazione mica male, quindi l'Europa anche, quindi siamo tutti insieme in questa galoppata inflazionistica, ecco se questa galoppata sarà una galoppata che si concluderà abbastanza rapidamente oppure no? E io non posso darvi una risposta perché se avessi la risposta in tasca probabilmente non sarai qua, ma no, perché sarebbe bello avere la capacità di anticipare così gli andamenti dell'economia, però certamente ci sono alcuni elementi che ci fanno riflettere e che vi devono fare riflettere. Allora, un primo elemento importante, io quando presento questa slide dico già fatto, molti di voi più o meno sono del giurassico come sono io, poi invece ci sono anche molti giovani quindi non hanno vissuto questi anni qua, questi anni qua dal 74, dal 72 all'85 abbiamo viaggiato con un'inflazione che praticamente era intorno sopra il 6% e ha raggiunto delle punte a due cifre, 20-22%. Allora capite che l'inflazione di oggi all'8%, d'altra parte io quando andavo in America all'epoca avevo ancora le brighette corte e c'erano tutti questi docenti ad Harvard che mi chiedono ma come fai a vivere, a sopravvivere con l'inflazione? Viamo benissimo, non so neanche, non riuscivo a capire più di tanto, probabilmente ero tra i fortunati perché attenzione, l'inflazione come spiega qualche bravo economista è una ridistribuzione delle redditi, cioè quello che attra un processo inflazionistico è che qualcuno diventa più ricco e qualcun altro meno ricco, punto. altro. Allora è chiaro che questo cosa fa? Crea fortissime tensioni a livello sociale e politico. Se voi ci pensate, in quegli anni andate a posizionare cosa stava succedendo in Italia, le BR impazzivano, qualcuno rimaneva ucciso in un vicolo a Roma e c'è una situazione dal punto di vista socio-politico che quella sì che faceva paura, quella sì che era da chiedersi come si faceva vivere in quel contesto, però siamo qua, quindi o abbiamo delle capacità di sopravvivenza molto elevate oppure, come spesso capita, abbiamo delle capacità di adattamento e magari non solo di adattamento ma di cambiamento di fronte a quello che è una nuova situazione di vent'estero. Quello che vi ha detto sostanzialmente prima ovviamente Noce e poi Federico della Pupa è sostanzialmente questa, attenzione ai cambiamenti e cercate di adeguarvi ai cambiamenti. Io volevo aggiungere solo una cosa perché poi su certi argomenti Virginia mi ha costretto a trattare questo tema qui che è una rotazione, però ho accettato volentieri per il fatto di venire a Villa 40, oggi vedo un po' Verona, un po' che non veniva, quindi avevo una serie di motivi molto validi per essere presenti. Però una delle cose fondamentali che noi siamo passati, e voi siete passati, pensateci bene così, dal distribuire solo il prodotto al distribuire il prodotto più i servizi e adesso avete una terza cosa da distribuire, l'informazione. Cioè ci sono i flussi informativi da abbinare ai flussi fisici con poi tutti i flussi di servizio che stanno intorno. Sarebbe molto bello, e lo vedremo adesso parlando anche di inflazione, poter avere i magazzini molto alti. Se ve lo potete permettere, perché avete tanti soldi, fate pure. Però capite, il magazzino molto alto non è la soluzione. La soluzione è avere il magazzino giusto, al momento giusto, nelle quantità giuste. Che detto così uno dice, no? Quelli più simpati di studio, vieni qua tu, invitandomi a capire come fare questa cosa. Però la cosa è questa, quella che bisognerebbe cercare di fare. E bisogna stare attenti, perché in inflazione, ad esempio, vi anticipo questo, che non vorrei poi dimenticarmene dopo nel parlare degli altri aspetti connessi, la tentazione di fare un po' di speculazione, cioè l'hanno avuta a Amsterdam, volete che non l'abbiamo noi nel nostro piccolo a Verona. Quindi tendenzialmente bisogna stare molto attenti, perché la speculazione nel breve premia non sempre si conclude con grandi successi, talvolta si conclude con grandi disastri. Per il momento non lo so ancora, bisogna vedere, però certamente gli olandesi non hanno giocato in modo molto pulito. Cioè, hanno fatto un po'. Cioè, capite, parliamo di Europa e poi fai i dispetti agli europei, ma dai, sii serio, con la scusa di Putin. No, non vorrei adesso non vado alti, se no poi mi date del puttignano, per carità. Però, capite, cioè è un contesto nel quale bisogna stare molto attenti e io suggerisco sempre la prudenza. Io non sono uno prudente, quindi, capite, viene dal pulpito sbagliato questa affermazione. Però ci vuole. Ci vuole perché se torna ad essere un discorso di questo genere. Oh, poi, se voi notate, l'inflazione non l'abbiamo mai abbandonata. Cioè, in Italia l'infezione cosiddetta strisciante, 1-2%, c'è sempre stata, no? Aiuta, no? E dà un po' di euforia, capite? Un po' di inflazione, 2% così che fai in più di fatturato, esistiva anche bene. Ma non c'è solo quello, ci sono tanti altri aspetti, perché poi, giustamente, no? Se io riesco a fare quelle cose a parità di struttura, aumenta la produttività. Però è un aumento di produttività reale o è un aumento di produttività più monetario, fittizio? Cioè, è un abbaglio. Eh, queste sono cose da valutare molto bene. Comunque, come sarà oggi? Beh, questo qui, vedete, è un grafico BCE, quindi non riporto dati particolarmente difficili da reperire. Andate su Google, digitate andamento dell'inflazione, no? Nei vari paesi e in particolare in Italia e trovate questo andamento. Dove, vedete, i diversi colori indicano quelli che sono i diversi beni che hanno avuto un andamento delle dinamiche di prezzi in aumento, quindi caratterizzati dall'inflazione. Ed è chiaro che i beni energetici, no? Hanno avuto un andamento sicuramente pesante nel determinare il tasso di inflazione in Italia. Però gli alimentari ci sono subito dietro anche perché insieme al gas l'Ucraina, no? Aveva dei problemi anche col grano. Quindi capite? Ci sono un po' di conseguenze che si sono diffuse già all'interno dell'economia in diversi comparti, no? E ovviamente il comparto dei servizi molto spesso è quello che reagisce prima perché ovviamente ha una serie di componenti, di risorse da rimettere insieme, quindi sente di più anche il fenomeno inflattivo. Questo è quello che dovrebbe essere l'andamento 23 e 24. Quindi vedete, pensano tutti a una impennata nel 22, legata anche un po' al discorso ovviamente della guerra che non finisce più. Se finisse quella già ci sarebbe una distensione a livello di animi e di sentiment delle persone e però ci dice anche che rimane intorno al 3 e al 4 negli anni successivi, 23 e 24, quindi non scompare. Però se rimane a questi livelli, niente di male. Cioè se io riesco a gestire l'inflazione? Ricordate Draghi quando era alla BCE, cosa voleva fare? Generare un po' di inflazione. E come faceva a generare un po' di inflazione? Lui appartiene a una scuola di pensiero. Voi sapete che ci sono due scuole di pensiero sull'inflazione. Una che dice che l'inflazione è dovuta alla circolazione della moneta ed è la scuola a cui appartiene i draghi. Per cui se io aumento la circolazione parte l'inflazione, se io riduco la circolazione di moneta si ferma l'inflazione. E quindi le tipiche azioni che fanno le banche, che ovviamente quando c'è troppa inflazione ricevono l'ordine di alzare i tassi e ristringere il credito. Si fa un'operazione di tipo acquistata monetaria. C'è invece l'altro tipo di inflazione che è quella da domanda. Per cui l'inflazione parte non perché c'è moneta in circolazione, ma perché c'è una domanda di un qualche particolare bene che è in eccesso rispetto all'offerta. Ecco, questa vi do una buona notizia. È l'unica cosa che rimarrà valida per l'economia da qui all'eternità. Tutto dipende dalla domanda dell'offerta. Cioè è proprio l'unica legge fondamentale per cui è molto facile. Tant'è vero che perché io penso che sostanzialmente l'inflazione dovrebbe essere destinata a rientrare molto perché non c'è eccesso di domanda rispetto all'offerta. C'è un'offerta che è limitata. La domanda non è che ci siano stati particolari scatti in avanti della domanda dei consumi per cui uno dice no, per forza. Guardate, il primo che forse, sì sì, forse ve ne siete accorti perché qualcuno di voi sicuramente tra i prodotti che distribuisce c'è anche qualche cosa di siderurgico. Nell'acciaio l'inflazione è partita ma già nel 21. E lì è partita nel 21 perché c'era stato il blocco delle acciaierie cinesi. Oggi c'è un attore in più che probabilmente non abbiamo ancora capito e studiato che si chiama Cina e dal quale dipenderanno molto delle nostre sorti. Più che da Putin. Per carità il ragazzo adesso sta scalpitando un po', però a un certo punto se qualcuno vuole, t'ha zitto. Anche lo stesso ordine è più alto quindi capite. Dalla Turchia fa un salto, gli dà un bel colpo qui in testa e via. Eh? Sì sì sì, no scusate, cosa ho detto? No no, forse ho sbagliato il nome. Comunque, lì il turco, quello. Ha detto giusto. Allora, no scusate, ma è mezzogiorno e mezzo, credo, io non ne posso più, non so voi, ma siamo tutti un po' provati. No, ma è la voglia di mettere in agenda tante cose ed è questa di comprensione. Vi faccio vedere una cosa interessante, così capite tutto. Noi economisti diciamo che è sempre molto importante guardare la serie storica. Allora, se voi prendete dei prezzi di materie prime, rame, legname, tanto per prendere due, vedete che dal 2020 hanno fatto un salto verso l'alto e questo ovviamente, oh mamma mia che salto. Eh sì, ma tu non lo devi vedere rispetto al 2014, devi guardare nella serie storica. Nella serie storica alcuni prezzi stanno ritornando sui livelli precedenti a che cosa, precedenti al crollo finanziario del 2008, che ci portiamo ancora dietro, perché le banche sono ancora tutte ingrippate dal 2008. Vedete, non è che come sta cambiando il mondo, stiamo cercando di riprendere, essere un po' normali, perché ci sono delle situazioni che, e guardate lì, ho messo anche la SARS, che così uno dice la pandemia, è già fatta anche la pandemia. No, e cosa è successo in pandemia? È che dopo un momento di crisi profonda, il 2020 com'è andato? Se mi dite che è andato bene, vengo da lavorare per voi. No, il 2020 c'è stato un marzo, un aprile e un maggio che sono stati da dimenticare. No? Quindi, è chiaro che da questo punto di vista, poi cosa è successo? È successo che dopo il momento di lockdown, liberi tutti e ci siamo scatenati. E lo scatenamento è continuato anche quest'anno, anche nell'estate di quest'anno, speriamo che non ci siano problemi nell'autunno di quest'anno. Allora, facciamo alcune precisazioni rapide, in modo che vi lascio poi, ancora, credo ci siano un paio ancora di, forse di, non lo so. Allora, prima precisazione, mi raccomando, ricordatevi il concetto, che è sempre vero, che fatturare di più non vuol dire guadagnare di più. Questo soprattutto in inflazione, perché in inflazione voi avete un aumento dei prezzi che, e lo generate voi, andate voi a rivedere i listini, quindi siete voi che fate l'aumento di prezzo, nessuno vi dice niente, o tendenzialmente vi dice poco, perché il suo potere anche è limitato nel rifiutare il prezzo che voi fate, poi c'è l'inflazione, è evidente a tutti, quindi si deve accettare, però c'è una situazione che è particolare, cioè voi avete un saggio di inflazione che è un saggio di inflazione subito, che è la variazione dei prezzi dei principali prodotti che fanno parte del vostro paniere di vendita. Questo saggio di inflazione è l'unico che vi dovete preoccupare di recuperare sui prezzi di vendita dei vostri prodotti, così non subite l'inflazione. Attenzione, non fatevi prendere dalla tentazione di aumentare molto di più i prezzi, perché nel breve potreste anche fare dei risultati interessanti, ma poi siete voi che innescate ulteriore inflazione e questo nel lungo termine può portare all'inflazione strutturale che ha delle conseguenze negative per tutti. Sapete quella prima conseguenza negativa dell'inflazione? Il costo del denaro. Il costo del denaro. Le banche hanno già aumentato i tassi e li aumenteranno ancora di più, per cui uno diceva, ma tanto c'è l'inflazione, guardate, discorsi sentiti nel 74, ah professore, tanto restituisco denaro svalutato, sì, ma gli interessi? Restituisci il denaro svalutato, ma gli interessi li hai pagati. E c'era gente che è arrivata a lavorare per le banche. Ognuno deve essere, ha fatto le sue scelte, non lavoro per me, lavoro per la banca. Gli sta particolarmente simpatico qualcuno della banca intesa e quindi lavora per la banca intesa. Distribuisce prodotti materiali, ma per la banca intesa, per conto di banca intesa. Allora, il problema quindi, capite, è fondamentalmente questo. Innanzitutto tenetevi ancorati qualche numero di pezzi, chili, cioè rimanete ancorati a qualche elemento per misurare il vostro fatturato in termini non monetari, in termini quantitativi. Questo è molto utile, no? E devo dire che le persone che conosco e che hanno seguito non hanno preso gli abbagli che vi dicevo prima, perché, ripeto, è un attimo essere convinti di guadagnare. E poi l'altra cosa molto importante, e ricordatevi questo, che purtroppo l'inflazione migliora ha anche gli utili. Porco Giuda. Perché? Perché anche se voi fate tutto bene, avete dei costi che sono dei costi non monetari nel vostro conto economico, che sono gli ammortamenti e gli accantonamenti. E gli ammortamenti e gli accantonamenti sono fatti su valori storici, mentre tutto il resto dei vostri ricavi e dei costi sono valori monetari. Quindi è veramente il conto economico diventa una fonte di informazioni. Tant'è vero che quelli più, diciamo, integralisti islamici, che cosa vi dicono? Eh, bisogna fare la contabilità per l'inflazione. Nel 73-74 c'erano imprese che facevano la contabilità per l'inflazione. Perché se io non avevo il dato contabile pulito, gonfiavo gli utili, no? E fra l'altro, voi capite, no? Con tutta una serie poi anche di conseguenze dal punto di vista fiscale. Quindi il fisco, non venite e il fisco non mi ha detto certo che il fisco non vi dice niente. Più utili? E allora? Ma no, lei trovi qualche modo per pagare un po' meno importe. Il giorno in cui ci sarà una situazione di questo genere in Italia, probabilmente io non ci sarò già più e molti di voi anche, credo, non per gufare, ma perché conosco i tempi biblici dei nostri politici. E quindi, allora, se si sono aumentati i prezzi, mediamente, allora qui c'è un esempio, vedi? Attenzione perché io in realtà faccio 10 milioni come monetario e in realtà con l'inflazione dell'otto sono solo 9,3. Quindi già solo pulire un po' i dati. Poi, capite, è domestic accounting. La traduzione del termine domestic accounting è contabilità della serva. Mi raccomando, fate un po' di domestica, almeno un po' di domestic accounting. Perché l'accounting normale è fatto per informare fuori l'azienda. Quindi fatevi un po' di calcoli per essere informati voi, viaggiare informati. Allora, indubbiamente, uno dice, ma allora come faccio a fare i prezzi di vendita? Allora, io qui vi do la mia proposta, ripeto, è una proposta che poi viene utilizzata in molte aziende e per il momento, incrociamo le dita, non ne ha fiallito nessuno, quindi spero che sia una formula giusta. Sostanzialmente, no, il problema del markup è che il markup rimane lo stesso per fare i prezzi. Cambia che cosa? Cambia la base sulla quale voi dovete calcolare il markup, cambia il costo del prodotto. E il costo del prodotto, se voi lo prendete da contabilità, o da magazzino tenuto in modo, normalmente è all'IFO. Quindi è al valore storico. Non è neanche al FIFO che è il valore attuale, no? First in, first out. Ma voi lo dovreste fare, questo qui è bellissimo, al NIFO. Adesso non dite che Bubbio spaccia, eh? Allora, il NIFO è nest in, first out. Cosa vuol dire nest in, first out? Che voi dovete basarvi per fare il prezzo, non sul prodotto che avete a magazzino, ma sul prodotto, scusate, sto dicendo una cosa che alcuni di voi dice Bubbio, si vede che sei invecchiato male. Allora, perché ci connotiamo già, magari anche da tempo. E quindi non sto dicendo nulla di nuovo, no? Non sto dicendo nulla di nuovo, ma io lo devo fare sul prezzo di riacquisto. È lì che vado a valutare se ho venduto bene oppure no. Perché se io vendo a 100 quello che riacquisto a 120, sì, poi lo rivenderò, magari a 103, è un giro, è una rincorsa a delle immagini che non si realizzano mai, no? Rimango sempre un po'. Quindi la formula del markup rimane sempre questo, quello di immagine obiettivo. Immagine obiettivo, adesso nel vostro settore non so quale sia da suggerire. Ai miei ragazzi dell'ITS, con i quali ho ormai una, così, un confronto da un po' di decenni, dico sempre che loro devono stare sopra il 30% di immagini di intermediazione. Sotto sono destinati a fare fumo e niente arrosto. Nel vostro caso, forse il 30% è molto, perché le immagini sono leggermente più bassi, però ecco, mi raccomando, non mollate mai su immagini. Perdete un po' di fatturato, ma non mollate su immagini. Questo è proprio un discorso che viene da cuore, questo vale in qualsiasi settore. In particolare, in un settore come il vostro, dove state facendo lo sforzo di cambiare. Cioè, il bello di fare innovazione è che io posso permettermi di proporre le immagini un pochettino più alti. Cosa che invece, se faccio la cosa che hanno fatto sempre tutti, sapete come la chiamano gli economisti? Commodities. Se un prodotto è una commodity, così ce l'hanno tutti. Se io ci metto un po' di servizio, faccio fare un po' di servizio. Poca roba. Allora, terza precisazione importantissima. Beh, questo avete anticipato quello che stavo dicendo. Verificare le immagini tengono almeno rispetto al tasso di inflazione subito. Guardate che ognuno di noi ha un suo tasso di inflazione che dipende dal paniere. Si fa prestissimo. E se volete tre prodotti che vanno di più, la variazione di quei tre prodotti è ponderata per il peso di questi tre prodotti. Può venire un 10, un 15, magari un 5, magari anche un'inflazione molto bassa. Dipende. Pur essendoci un'inflazione a livello nazionale che sta viaggiando verso il 10, ognuno di voi può avere un saggio di inflazione molto più subito, molto più contenuto. Se è molto più invece, molto più elevato, è allora dormire preoccupati. Bisogna cercare di fare in modo di recuperare, no? Almeno quello che è l'aumento di questi prezzi. Senza esagerare è per quello che vi dicevo prima, no? Cioè, qui c'è il, vi spiego poi, ve lo guardate con calma, vedete, c'è una formuletta, ma è una roba, questo qui è un po' da professori, però è il concetto che è molto importante. Cioè, se voi acquistate una roba che aumenta, no? Fate l'ipotesi banale che prendete un solo prodotto, che aumenta del 10%, quando fate il prezzo di vendita cercherete di aumentare il prezzo di vendita del 10%. Lo stesso è quello che vi sto dicendo io. Solo che c'è un mix di prodotti, dovete avere un po' di paziente e invece di dire, beh, tre, quattro prodotti, capito? Però attenzione a mettere i prodotti giusti. Nel paniere dell'inflazione in Italia, quando facevano il saggio di inflazione nel 74, c'erano le nazionali super senza filtro, pacchetto verde, non le fumava più nessuno, non si trova neanche più in giro, no? Era una roba, certamente chi fumava quella moriva perché è una roba, quindi l'avrà messo e dice, vediamo se muoiono o meglio, ce ne liberiamo. Allora, comunque, questo è un po' l'altro, l'ultimo aspetto importantissimo, quello di cercare di pilotare la crescita forzata dell'inflazione. Cioè, voi con l'inflazione, non è che non vi ho detto che dovete vendere di meno, vi ho detto che dovete vendere sapendo che state vendendo di più grazie all'inflazione. Allora, per lavorare su questa cosa, bisogna ricordare che l'inflazione, quello che veramente genera, e voi con i crediti lo state toccando anche in modo molto preciso, no? È un varnaggio di liquidità, perché sembra tutto più facile, no? Sembra che uno abbia più liquidità, in effetti la moneta c'è, ce n'è di più e quindi sembra che ci siano questa liquidità in più. Purtroppo, purtroppo questo drenaggio di liquidità è un drenaggio fittizio, che poi si rivela pericoloso perché i crediti non li incasso e i magazzini si inchiodano. Perché il mettere a magazzino, la speculazione, perché io la faccio sul gas, perché tanto il gas prima o poi qualcuno lo compra. dei vostri prodotti non è detto che prima o poi qualcuno li compra. E quindi, cioè, è molto più rischioso. Una speculazione su alcune materie prime è molto più facile da fare rispetto, ed è già difficile da fare sulle materie prime, lo dovete immaginare sui prodotti. E quindi, mi raccomando, no? C'è ovviamente, abbinato a questo, questo fenomeno che è un fenomeno pericolosissimo, di aumento, no? Del costo del denaro da parte del sistema finanziario. Che in aggiunta, siccome deve rispondere alle politiche monetarie della banca centrale, farà anche restrizione a credito. Per cui voi vi ritrovate, no? Sul Londra di un successo, pensando di cavalcare il cavallone giusto, no? Il surf che ci faceva prima, no? Federico giustissimo. Sono sulla cresta dell'onda improvvisamente, le banche vi togono l'onda e vi lasciano gli interessi. Cosa succede? Non solo schiantate giù, ma andate sotto. Occhio, eh? Occio! E non mi venite a dire che io gufo. No, no, no. Io avverto. È una cosa diversa. L'avvertimento non è gufa. È così. Allora, ovviamente, no? I clienti sono tutti da valutare in modo diverso perché non è detto che quelli che fino all'altro giorno erano ad impienti affidabili continuano ad esserlo. Mi raccomando, non iniziate a fare perché fate più fatturato, politiche di per sconti che dopo non si capisce più neanche qual è il margine, no? Quindi bisogna diventare veramente molto prudenti su queste cose, ricordando appunto che il fenomeno è un fenomeno che se è governato lo gestite. Se non è governato vi porta dove vuole lui. Io faccio sempre il confronto da ex persona che andava a cavallo tra andare al passo, al galoppo e al galoppo sfrenato. Al galoppo sfrenato il cavallo fa quello che vuole lui. Anche se voi siete il cavaliere più bravo del mondo dovete lasciare sfogare. Speriamo che abbia progressione. Non ero più a Verona se fosse ancora cavallo. Allora, mi raccomando perché questa è la vera cosa che dobbiamo capire nei prossimi mesi, no? Se quello che abbiamo visto è stata una fiammata anche importante oppure se abbiamo di fronte, no? Ci troviamo di fronte a una situazione invece di tipo strutturale. Non credo che ci sia molto altro da dire se non quello che avevo già detto nella parte relativa anche alle scorte e quindi credo di aver finito se non con una frase importante. Nel 2008 era ritornato in moda sta roba qua. Cash is king. Anzi, nelle multinazionali americane, se qualcuno di voi ha avuto a che fare, siccome i ragazzi ci conoscono bene, no? Ci conoscono dal 40, capito? Sì, è un po' di anni che gli americani sono sbarcati, ti conoscono bene. E allora, conoscendo il nostro attaccamento per la mamma, c'era una frase che girava nelle multinazionali, the cash is more important than your mother. La cassa è molto più importante che vostra amata. Buon lavoro. Aplausos 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 Grazie a tutti.